YOLANDA SWITZ Tutti e due bendati Usate un bellissimo pollice in su Mi raccomando Iscrivetevi ed attivate la campanella Perché tutti i giorni ci sono video alle 14.30 Iscrivetevi ai nostri social Instagram e TikTok E seguite anche il mio sito ufficiale Dove vende il mio merchandise I miei slime e i miei pop it Che sta scritto qua www.yolandaswitz.it Facciamo un gioco prima di iniziare Questo video Secondo voi, tra questi tre pop it Che vi so per mostrare Qual è il mio preferito Pikachu, Hello Kitty Ora costa Allora vai, Sassogattaform Ok, devi iniziare tu Abbiamo questa Si vendi Quindi tu non sai cosa vado a mettere Tu devi bendare anche tu E deve essere tutto a caso Tutto quanto a caso Sarà un video al buio Sì, sarà un video completamente al buio Ok Si è vendato? Yes Yes Allora Vado? Quindi è solo pop it Dobbiamo essere sempre vendati per tutto il video Allora io E non dobbiamo sapere che scambio tieni Perché ovviamente Non possiamo saperlo Allora io ho preso questo pop it Quindi io non so in questo momento Tu cosa mi stia offrendo Pop it Vai Allora io Non ti ho neanche offerto niente Allora io ti offro Questo pop it qua Vado a caso per vedere Però anche io voglio di più Ti offro Questo qua Di più Anche io Quindi sono più belli al tatto Questo Accetto Accetta Ok Non ci dobbiamo togliere per niente la benda E quindi non dobbiamo sapere fino alla fine Quali pop it ci siamo scambiati Allora io questi li metto da parte Non so veramente Cosa io ti posso offrire Allora io ti offro questo Io ti offro questo E voglio di più Anche io voglio di più Secondo me il mio è più bello Perché al tatto è molto più bello Perché ne sai Il tuo tatto Ancora voglio di più No non esiste No 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 Io ho del vino No accetto Accetto Ok allora accetto anch'io Ti ho te l'ho messi davanti Ok davanti Sono là Mi devi offrire tu Ti offro un po' P3 grande quanto la mia faccia Quindi è grande Quindi è gigante E qui ce la faccio a gigante No di che gigante Vai E quindi ne voglio almeno due Di base Allora io ti offro Boh vediamo un po' Fammi toccare cosa ti posso dare Ti offro questi due Fatto? Eh sì Boh Io accetto Ok Ok Te l'ho lanciato Te l'ho lanciato a qualche parte Dani cosa stai facendo? Che hai fatto? Cosa stai facendo? Io stavo toccando Tu hai messo la mano No sono dei miei Daniele No mi hai poppi Ok Daniele io sento che stai No sono dei miei A me devi se c'è la benda Ah sì ce l'ha Che ne sapevi che stavo toccando i poppi Ma perché io sento Ho un ultimo molto sviluppato Perché è vero Comunque ti chiamo Tocca a te No tocca a me Allora io ti offro Vediamo Vediamo C'è un poppit abbastanza grandicello Ok Di più Messo Di più io Sento di suono che è uno solo Di più Di più Messo Ok Declino Ma che deglini? Perché secondo me stai imbrogliando Ma come fa a saperlo? Non lo so Ah 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 sbuffo Eh non è vero No Accetta Accetta No io deglino Declino Non accetto Perché secondo me tu stai imbrogliando Tu stai imbrogliando al massimo No 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 Daniele allora vai Vado? Daniele dove è il mio poppit a farfalla? Al tuo posto Ma fa a sapere che ce l'hai Non ce l'hai Ma cioè hai tutte le cose che faccio Allora Non si vuole anche Ce l'hai tutta la tua parte Non si vuole anche imbrogliare In certa pace Allora Tu mi devi offrire Perché io ho declinato Gara ho messi due Vai Ne è uno solo Ne è una sola No, è vero, tocca, tocca a Mons, ce ne sono due Ok Aspetta, Daniele, allora non ti offro, non gioco più Sto morendo di caldo Ja, vai, va, tocca Dammi la mano Ja, lascia la mano solo per queste che sono due E infatti, vai, aggiungi Allora, io ti aggiungo questo che è quello di prima Daniele, ce n'è un altro qua Dai, aspetta Può vedere se ci sta C'è qua Ah, ok, ci sta Ci sta Ancora No, veramente io voglio ancora, visto che il mio è grande proprio assai Ancora Ok, accetto No Accetto Ultima fetta Eh va, metti Allora, ti do Due vedi di dare No, uno solo Uno grande No, uno solo Dammi la toccare Uno solo, se no niente Questo Ok, accetto Ok, no, metto te Ti Dai, sono solo due Dai, sono solo due E quanti devono essere? Eh, tre Eh, tre Ok, ti devo offrire io Ti offro questo C'è la benda C'è la benda, ci sta Madonna, quanto rompi le scatole Vado, messo uno Ancora Ok, ci sta Ok, ci sta Anche io ancora Vai, ancora Ho messo Non è vero Tocca adesso Vai Anche io ancora E metti E metti Ce ne sta solo uno Metti Ok, questo Accetto Ok Però soltanto che li metti tu là Non mi piace E tocca Che stai facendo? Stai giocando Daniele Dai Dai, tocca a me Vai Ho messo uno Ok, ci sta Allora, io ho questi miei pop it Da qua me li tolgo E anche io E me li metto a terra Stai prendendo tutti quanti I miei pop it E me li metto a terra Ma non so quali Perché tu sei un imbroglione Non so quali erano i miei Stai fermo allora Stai fermo Vai Ok Io l'ho messo Allora, io ti metto Guarda Questo Però voglio di più Perché ho capito quale pop it è Fermo con questa mano Ma è piccolo Anche più Questo Di più Ah certo E qua ha finito la prima colonnina Ok, vai Facciamo gli ultimi tre scambi E vediamo un pochettino Come andiamo a finire Eh, ma insomma Quanti ne ho presi Vabbè, non fa niente Ti do questo che Wow, è un grande Sempre quanto la mia faccia Ok, allora anche io ti offro Vediamo Questo che è grande Almeno sento al fatto che è molto grande Ok Da qua Ancora Anche io Uno piccolino Vai Anche io Accetto No, io voglio di più Quest'altro Accetto Accetto Ancora Accetto De Grino Ancora Accetto De Grino Accetto De Grino Dai io ti offro Vediamo questo Che ho capito pure al fatto Qual è Questo qua Io voglio di più Ad di no ti do uno Tocca Che ne vale due Quindi mettile già due Ma se il mio pop it Non lo so Ma come si può di qua Perché ne so io Da me pop it Da qua Tu l'hai spostato Non sono stata io Ne voglio due Quindi uno più Allora guarda Io ne tengo uno qua Che tocca E' proprio gigantesco Quindi Allora accetto No io voglio di più Eh no Il mio è più grosso No il mio è molto più grande E fallo vedere a loro Qual è il più grande Accetti Vabbò Cioè Devi darli a me Io li lancio E' buio Ultimo Sì Ti la faccio io Allora io ti offro Questo pop it Io te ne offro uno Piccolo piccolo Allora io voglio di più Eh per forza Mi stavo zitto era meglio Due No basta Accetto Accetto Allora quest'altro pop it Di più Accetto Ce ne sono due Dammelo Dai dai Allora vai Sbendiamoci E vediamo un pochettino Chi è che ha vinto Mamma mia Ho sudato ragazzi Ci sei? E questi sono i miei pop Ah sono a terra Ok è vero Infatti ci vedono pochi Allora Hai vinto gli occhiali sotto la mascherina Sì Ok Sì perché? Quindi Sì Sì 18 punti E' inutile che conto perché sono convintissima che ho vinto io Hai vinto tu? Sì ho vinto io Assolutamente Non ce ne ho vinto Posso sapere perché ho vinto? Perché ho imbrogliato Wuhu Grazie mille a tutti per aver visto questo video Speriamo che vi sia piaciuto E intrattenuto Strappato un sorriso Come sempre Vi do un grande bacione Un abbraccione gigantesco Con Super Mega Pop It E noi come sempre ci vediamo domani alle 14.30 Con un nuovissimo video Bye Ciao